Domenica a partire dalle 9.30 la non edizione della Saliscenti Beverino. Sì, aspettiamo numerosi tutti gli appassionati di corsa e anche chi vuole semplicemente fare una passeggiata. L'appuntamento è al Parco San Cipriano di Beverino, nell'area verde dove c'è anche la festa d'estate. Ci si trova lì, si può anche pagare l'iscrizione sul posto. Sono 14 chilometri di corsa o anche camminando in mezzo al bosco con un guado in un paesaggio suggestivo. Siamo giunti alla non edizione, ringraziamo il comune di Beverino e la UISP di La Spezia e Val di Magra. Pensiamo che quest'anno sarà un successo come nelle edizioni precedenti perché vengono appunto runner dalla Spezia essendo inserito nel circuito di Cori Lunigiana anche dalle località della vicina Toscana piuttosto che dell'Emilia. Il percorso è semplice? Il percorso è piuttosto impegnativo per chi la fa di corsa, è una passeggiata per tutti gli altri. Ecco, ci sarà anche uno spazio riservato ai bambini? Esattamente, lo spazio riservato ai bambini è con un minicircuito di 500 metri che si svolgerà prima della gara ufficiale. Logicamente aspettiamo diversi bambini perché in questo circuito del Cori Lunigiana diverse squadre hanno il settore giovanile come il nostro. Dov'è questo circuito? Sempre all'interno della fiera di San Cipriano, questa manifestazione è organizzata da Spezia Marathon DLF sia nella gara amatoriale che sia nella gara giovanile. Siamo con i protagonisti della gara riservata ai bambini, come ti chiami e da quanto corri? Mi chiamo Gledio, ho 9 anni e corro da un anno. Mi chiamo Leonardo, ho 9 anni e corro da 3 anni quasi. Sono Agostino, sono Agostino, ho 7 anni e corro da 2 anni. Sono Marco. Quanti anni hai? 4. E da quanto corri? 1 anno. 1 anno.